Andreas Gallio, ragazzo di 19 anni, è deceduto dopo un grave incidente in bicicletta avvenuto in Alto Adige. Ricoverato per dieci giorni all'ospedale di Bolzano, Andreas ha lottato tra la vita e la morte, ma purtroppo non ce l'ha fatta. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 17 agosto nel comune di Malles Venosta. Dopo aver visitato la nonna, Andreas era partito in bicicletta per raggiungere Sluderno, dove si stava svolgendo una festa medievale a cui avrebbe partecipato con gli amici. Durante il tragitto, però, ha perso il controllo della sua mountain bike in una curva, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Nell'impatto ha battuto violentemente la testa. Soccorso rapidamente, Andreas è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bolzano con l'elisoccorso ricoverato in neurochirurgia. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da richiedere il trasferimento nel reparto di terapia intensiva. Nonostante gli sforzi dei medici e le speranze dei familiari, il giovane non si è mai ripreso e martedì mattina si è spento dopo dieci giorni di agonia. Grazie per la visione!